Prima di tutto è una grande passione, poi è anche diventato il mio lavoro. Lo scelto a fondo è uno sport bellissimo, per me vuol dire tanta fatica, tanti spostamenti, tante località diverse, tanta neve. Penso non a molto, spesso guardo quello che parte prima di me, quelli che passano al transito e poi mi concentro sulla mia partenza. Innanzitutto questa stagione vorrei non ammalarmi, che ultimamente non era tanto scontato, quello è il mio obiettivo principale.